Ragazzi quella che avete appena visto è la nuova intro del canale scusate se ancora per oggi non vi ho portato video della carriera ma ancora ho un po' di febbre e un po' di mal di gola Comunque appunto questa è la nuova intro spero vi piaccia anche a voi a me ragazzi piace tantissimo e ovviamente passate anche dal canale del creatore ovvero The100K ragazzi mi ho iscritto perciò ci tengo molto che passiate anche dal suo canale e va bene ragazzi niente direi che ci possiamo vedere domani con un nuovo video Bona